Ciao a tutti, oggi è qui con me Vincenzo, un collega che in Olivetti è un Industrial IoT Product Manager. Lui è un tutor nel percorso del Master in Smart Product Design 4.0 che Olivetti sta conducendo per una seconda edizione a fianco del Politecnico di Torino e lo conosciamo meglio proprio in questo ruolo. Ciao Vincenzo! Ciao Luigi, buongiorno, ciao a tutti! Allora, come abbiamo detto all'inizio tu sei un Product Manager legato all'Industrial IoT, ma cosa fa questa figura in azienda? Esatto, cosa faccio? Mi occupo in pratica di creare l'offerta per il nostro cliente principale che si chiama Team, quindi noi facciamo parte, Olivetti fa parte del gruppo Team e appunto noi essendo fabbrica digitale di Team creiamo delle offerte in questo caso nel mondo dell'Industrial IoT per Team e seguiamo la creazione di questa offerta dall'inizio, quindi dal principio fino alla messa a terra. Quindi si parte da, giusto per farti un esempio, dalla scelta di un eventuale partner che possa supportarci su un determinato servizio. Una volta scelto il partner si cerca di fare il delivery di questa soluzione verso il cliente, verso Team che sia in questo caso, e allo stesso tempo poi diamo alla fine tutta la parte di assistenza tecnica durante il post vendita. Ecco, quindi all'interno di questo processo ci siamo noi della funzione IoT Product Owner che cerchiamo di tenere un po' le fila di tutto e siamo a supporto ovviamente di tutte le altre funzioni di pre-sales, piuttosto che di marketing, piuttosto che di vendite, per portare a termine, a compimento, nel migliore dei modi, la vendita dell'offerta. Dai, interessantissimo, poi è un mercato in forte espansione, quello anche legato proprio alla branca dell'industria, all'IoT. È davvero bello sapere che dall'A alla Z seguite proprio tutto quanto il processo di ideazione, creazione e delivery, come dicevi che è assolutamente fondamentale se gestito al meglio. Ti faccio invece adesso una domanda legata proprio al percorso di tutoring. Come sta andando l'esperienza? Come sono i ragazzi? Ah, interessante, è un'esperienza molto interessante. Mi ero già occupato di tutoring non in modo ufficiale nella mia passata esperienza lavorativa, però in questo caso devo ammettere che è molto più interessante per il semplice fatto che i ragazzi ovviamente seguono dei corsi, quindi a me è stato assegnato un ragazzo nello specifico, seguono i corsi con i propri professori in gruppo e allo stesso tempo però poi due volte, anche a volte tre volte a settimana, sono seguiti da noi, da me nello specifico. Ecco, è interessante perché gli si trasferisce un sacco di cose relative al mondo del lavoro, quindi relative alla tua professionalità e la tua personalità, di cui loro fanno sicuramente tesoro, ecco. Ah, è bello, credo sia effettivamente un confronto interessante da ambo le parti, nel senso io ho anche sentito i giovani colleghi che sono entrati col master, mi stanno tutti confermando quello che mi hai detto e che lo scambio è molto utile, soprattutto per entrare in quelli che sono i processi aziendali, che possono essere un pochino ostacolanti, diciamo, da questo punto di vista, proprio perché sono una novità. Bello, bello. Ti chiedo ancora una cosa, Vincenzo, l'ultima domanda. Se credi che questo tipo di schema, che hai anche già esplicitato tu, quindi con studio e lavoro che vanno in parallelo, sia vantaggioso sia per Olivetti, sia per il mondo aziendale e universitario del paese? Ma assolutamente sì, ma assolutamente sì, perché ovviamente c'è una differenza di età fra il tutor e il ragazzo che sto seguendo, sono più o meno 15 anni di differenza, ecco. Quindi ovviamente lui sta imparando molte cose stando al mio fianco, ma allo stesso tempo al fianco di altri colleghi, perché abbiamo impostato un lavoro un po' più di gruppo quest'anno, almeno sui due o tre ragazzi che seguono la parte di IoT, diciamo IoT industrial e product owner. Ne abbiamo più o meno segnati tre. In questo caso riusciamo a trasferirgli veramente un sacco di informazioni nuove che loro non conoscono, quindi dei processi, sia a livello di processi aziendali, ma sia a livello di tecnologia applicata. Allo stesso tempo, come dicevo all'inizio, loro sono più giovani e più freschi, sta anche a noi cogliere il lato e la nota positiva di questo. Devo ammettere che sto facendo anche io un po' un salto nel passato di quando ero all'università e studiavo, seguivo i corsi, ma allo stesso tempo ero sempre interessato a ciò che l'industria in sé, le aziende in sé proponevano nel mondo reale. Quindi stanno effettivamente capendo qual è l'anello di congiunzione fra quello che studiano e quello che poi viene deliverato ai clienti finali, che nel nostro caso può significare dare una grossa mano alle aziende in termini di analisi dei dati, in termini di eventualmente manutenzione predittiva che si può fare sui vari macchinari e quindi save di costi e di sprechi che le aziende, ovviamente, a cui le aziende sono molto sensibili in questo periodo storico. Sicuramente lo sai meglio di me, Luigi. Infatti è bello, è un bel contesto, sia ovviamente a livello di servizio, quindi come stavi delineando adesso nelle ultime battute, ma vedere i ragazzi inseriti proprio anche in questo tipo di bisogni partoriti dalle aziende che vengono sviluppati e inseriti in un team, soprattutto, come dicevi, è molto interessante, molto stimolante, sono sicuro, perché poi me lo stanno dicendo, quindi è una conferma, trova conferma anche quello che dicevi, Vincenzo. Io ti ringrazio ancora davvero per averci raccontato come sta andando l'esperienza di tutoring, ti auguro ovviamente un buon lavoro, speriamo di vederci presto a Ivrea e grazie ancora. Assolutamente, ciao Luigi, ciao a tutti.